Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima guida in cui voglio mostrarvi come poter trovare, come poter attivare tutti e 5 i monitor nascosti all'interno del ride furia meccanica ed in particolare voglio mostrarvi come poter attivare il quarto monitor, quello più complesso. Innanzitutto, a cosa serviranno questi monitor? Arrivati alla fine del ride ci sarà una stanzetta segreta con una cassa nascosta all'interno di una griglia formata da 5 laser, ogni monitor attivato disattiverà un laser e molto banalmente aprire questa cassa ci consentirà di ottenere l'impresa esotica che ci ricompenserà alla fine con il nuovo fucile a impulsi esotico, quello si iva e molto probabilmente quello che sarà anche considerato arma unica del ride. Adesso la guida per quest'arma ve la porterò nel modo più completo possibile nei prossimi giorni, per il momento parliamo dei monitor e faccio subito la premessa, basterà che soltanto un membro del team lo attivi e no, non so se quando si salverà, quando si otterrà il checkpoint, varranno quelli attivati in precedenza, non so se ad esempio arrivando ad Axis, andando in orbita e tornando, quelli attivati prima varranno, questo non so dirvelo. In ogni caso iniziamo a vedere dove sono, il primo lo potremo attivare subito dopo aver sconfitto Wozik e rimanendo sempre nell'arena del boss andiamo nella camera avanti a sinistra di quelle che utilizzavamo durante lo scontro con Wozik per difenderci dalla densità siva e noteremo sul soffitto un buco con una ventola. Banalmente dovremo saltarci sopra, entrare nel condotto di ventilazione e seguire la strada, in fondo ad essa troveremo il primo monitor ad attenderci. Il secondo lo potremo trovare nella parte platforming subito dopo Wozik, esattamente nella zona dove si trova anche la seconda cassa esotica di questo ride. Partendo sempre dalla stessa passerella di cui vi ho già parlato, sfruttiamo i tubi al lato per aggiungere una parte ancora più elevata, a video capirete bene l'esatto percorso da percorrere. Saltiamo dunque su questa sporgenza dall'altro lato della stanza, percorriamolo, saltiamo sul tubo e seguiamo il sentiero e alla fine troviamo anche il secondo monitor. Il terzo sarà molto particolare, una volta completato il passaggio della macchina d'assedio, invece che seguire la macchina che cadrà e saltare giù, buttiamoci giù sul retro e semplicemente attendiamo. Quando la macchina d'assedio sarà caduta, proseguiamo verso quasi la fine di questa muraglia, sporgiamoci dal lato destro e noteremo dei pezzi di ferraglia a sporgere dalla muraglia. Spariamoli, distruggiamoli, apriamoci un varco, saltiamoci dentro, percorriamo questo corridoio e attiviamo anche il terzo monitor. Dunque torniamo sul nostro sentiero originale e proseguiamo, arriviamo finalmente nella sala server, dove avranno inizio le varie procedure per poter attivare anche il quarto monitor. Innanzitutto ripuliamo l'area uccidendo tutti i nemici presenti. A questo punto, esattamente come vedrete nel video, due membri del vostro team dovranno andare presso i due terminali che si trovano a sinistra e a destra di questa stanza e dovranno rimanerci senza fare niente. Gli altri quattro membri del team, perché sì, questa parte andrà fatta per forza in quattro, dovranno invece dirigersi presso la stanza successiva, quella al cui centro ci sarà quel grande rombo che non si capisce bene cosa sia. Inquadrate bene l'area, ci saranno quattro sezioni, sul muro c'è scritto sezione 00, 01, 02 e 03. E in ogni sezione vedrete tutti quei cilindri. Guardate bene adesso la mappa che vi sto mettendo a schermo. In ogni sezione un guardiano dovrà salire esattamente su quel cilindro e dovranno rimanere attivi tutti e quattro assieme. Non importa l'ordine in questa prima fase, l'importante è che ci sia un guardiano su ognuno di questi quattro cilindri. Quando tutti saranno in posizione si potrà passare alla fase successiva. I monitor che vi ho citato prima si saranno attivati, i due guardiani lì potranno interagire, ma non dovranno ancora farlo. In basso a destra leggeranno 4 0, 00, 00. Cosa succederà quando li attiveranno? Vedranno un flash sulla schermata, cambierà l'immagine e leggeranno quattro cifre in basso a destra che sono 0 o 1 e un numero in binario. E naturalmente anche lo 00, 00 sarà un valore. Come ho detto due monitor, ossia due coordinate. Il monitor di sinistra darà la coordinata per una colonna, il monitor di destra darà la coordinata per una riga. Come ho detto danno numeri in codice binario, quindi da 00, 00, 40 a 0, 101 che corrisponde al 5, che sarà il massimo valore che potranno dare. Esistono siti, esistono tabelle per le conversioni, ma è molto semplice convertirle anche a mente. Sono sei valori, non è difficile ricordarsi gli abbinamenti. 00, 00, 00 corrisponde allo 0, 00, 11 corrisponde al 2, 00, 11 corrisponde al 3, 00, 00 corrisponde al 4 e 01, 01 corrisponde al 5. Sono facili da ricordare. Adesso prendiamo la stanza con il cubo rombo quello che sia. In ogni singola sezione noteremo che i cilindri saranno disposti in righe e colonne. Le colonne saranno indicate, a partire dalla colonna 0 ad arrivare alla colonna 5. Le righe invece dovremo contarcele noi. E attenzione, partiranno anche in questo caso dalla 0. La 0 sarà subito quella sotto il pontile, per intenderci. Naturalmente, come prima, 4 sezioni, 4 guardiani. Si partirà dalla 00, si arriva alla 01, 02 e infine la 03. Come si dovrà procedere? I 4 guardiani si metteranno in posizione. Gli addetti ai terminali attiveranno, uno solo attiva entrambi, quindi basta che solo uno attivi i terminali, vedranno la schermata flashare e vedranno un valore. Lo comunicheranno a quello nella sezione 00. Lui calcolerà con il valore del terminale di sinistra, la colonna, che è indicata, come ho detto prima. Con il valore del terminale di destra, la riga. E quello che dovrà fare, molto banalmente, sarà saltare su quel cilindro. Qualche secondo dopo, se il cilindro sarà giusto, si illuminerà. E sui due schermi cambieranno i valori, dando altre coordinate, passando così alla seconda sezione e via dicendo. Se si dovesse sbagliare, non preoccupatevi. Sentirete un rumore strano, i terminali si potranno riaccendere, ci sarà di nuovo l'opzione per interagire. Quindi banalmente potrete provarci tutte le volte che vorrete. L'unica cosa dovrete essere abbastanza veloci. Se passerà troppo tempo, i terminali si resetteranno e bisognerà ricominciare dalla prima sezione. Quando anche il quarto guardiano sarà sedito sul proprio cilindro e la combinazione sarà giusta, tra parentesi, la combinazione è diversa per ogni tentativo, quindi non guardate strettamente quelle in questo video. A questo punto il cubo si alzerà e potremo entrare in esso, dove oltre al terminale da attivare, troveremo anche una cassa che ci dropperà un emblema unico e un engramma esotico. E questo era per quanto riguarda il quarto monitor. Per quanto riguarda il quinto, molto banalmente, uccidiamo il boss, finiamo il raid, andiamo nello strapiombo dove c'erano le colonne su cui ripararci dopo ogni giro e guardando in basso troveremo una sporgenza. Saltiamoci sopra, proseguiamo lungo il corridoio, attiviamo il quinto terminale e troviamo qui anche la cassa. Quella che vi ho citato all'inizio di questo video. Dunque ragazzi, per quanto riguarda la guida su come trovare tutti e 5 i monitor nascosti all'interno del raid, furia meccanica e tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un vuoto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!